Ciao a tutti e oggi parliamo di stelle Michelin. Allora, prima di tutto devo spiegare perché ho chiamato questo video lo strano caso delle stelle Michelin. Voi sapete che le stelle Michelin sono i riconoscimenti che la guida Michelin, famosissima guida francese, da tutti gli anni a una serie di ristoranti che ritiene al top del top per il mangiare e questo in giro per tutto il mondo. Cosa che magari forse voi non sapete è che la guida Michelin non va in tutti i paesi del mondo a provare con i suoi ispettori i ristoranti del paese. Deve essere invitata, ok? E qui comincia tutta una serie di diatribe con la Lituania. Partiamo dall'inizio. Allora, voi sapete che io vivo in Lituania da tantissimo tempo e ho sempre molto criticato il modo di fare ristorazione dei lituani. Perché? Perché io penso che il modo di fare la ristorazione dei lituani sia molto improvvisato, sia veramente di basso livello, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale. Io sono estremamente convinto che i lituani non sappiano fare ristorazione. Si improvvisino troppo e anche i dati soffragano questa mia convinzione perché il ristorante medio lituano sopravvive circa due anni e mezzo e poi va in bancarotta. Poi ci sono altre problematiche qui in Lituania. L'offerta è veramente molto standardizzata. Ci sono prevalentemente catene di ristoranti e non ristorante e conduzione familiare e la qualità dei prodotti è veramente scarsa. Si predilige avere un prodotto standard di produzione industriale rispetto a un prodotto di qualità di produzione non industriale. Ma voi direte, vabbè, si pagheranno poco i ristoranti, no? Invece no, si pagavano poco dieci anni fa. Oggi andare a mangiare in un ristorante a Vilnius costa molto di più di che a Milano o comunque più o meno la stessa cifra. La qualità è più bassa. Il servizio è più o meno inesistente. Non parliamo della mise en place. Non c'è quasi nessun ristorante che ti dà una tovaglia, assolutissimamente, tranne rare e pochissime eccezioni. I ristoranti che invece eccellono o comunque hanno una categoria leggermente superiore si fanno strapagare. Quindi noi abbiamo una gozzoviglia di ristoranti medi, tantissimo street food che viene fatto passare come cibo normale. In realtà lo street food non è un cibo normale. Si chiama street food perché c'è un motivo. È un cibo da strada, ok? Ma qui si inventano che tutto diventa gourmet ad un certo punto per farti pagare di più. Diciamo che siamo arrivati quasi allo strozzinaggio del cibo in Lituania e poi c'è anche il problema che il cibo lituano viene molto sottovalutato. E questa è una cosa che a me fa arrabbiare ancora di più perché noi abbiamo il cibo lituano che è molto buono e invece di valorizzarlo loro lo mettono da parte, fanno una cucina fusion internazionale, sono nati tutti i ristoranti esperienziali di cui ho fatto addirittura anche un video e tutti ti chiedono dai 50 ai 100 euro giusto per sederti e mangiare quattro cosette che onestamente io mi cucino anche a casa. Cioè io da buon italiano mi cucino le stesse cose che senti in un ristorante, pagate 26 euro, le faccio io a casa, se volete venite a casa mia ve le faccio ad un prezzo inferiore. Detto questo, torniamo al discorso delle Michelin star. Per anni io mi sono sentito dire in Lituania beh, ma tanto questo concorso, questa guida è tutta una truffa, ma guardate che basta pagare per avere le Michelin star e quindi io per anni, più di dieci anni, mi sono sentito dire, ripetere e stradire dai lituani che non gliene fregava niente di questa cosa qua perché prima di tutto loro non c'erano su questa guida quindi non gli interessava. Seconda cosa, comunque era tutta una truffa. Mi sembrava di sentire Trump che urlava everything is rigged, everything is rigged, è tutta una truffa, è tutta una truffa. Poi lui vince la presidenza degli Stati Uniti, improvvisamente non è più tutta una truffa. ecco il nuovo governo lituano che cosa ha fatto? Ha chiamato la guida Michelin, ha pagato un milione e mezzo di euro per invitarli a venire a dare il loro giudizio su tutta una serie di ristoranti lituani e finalmente la guida Michelin ha mandato gli ispettori e dopo un anno e mezzo hanno dato a quattro ristoranti tutti a Vilnius purtroppo una Michelin Star cada uno e poi hanno dato come sempre fanno perché chiaramente quelle della Michelin Star sono dei professionisti danno tutto un elenco di ristoranti chi più per meno che altri meno hanno tutta una serie di caratteristiche che per esempio danno le menzioni speciali per un ristorante con una grande selezione di vini danno una menzione speciale per l'attenzione ad certi tipi di piatti eccetera eccetera ebbene quindi prima cosa al di là del fatto che io possa dire mi piacciono o non mi piacciono questi ristoranti io sono molto contento che la Lituania chiariamo subito sia entrata nel mondo delle Michelin Star chiaramente questo vuol dire che la ristorazione vuole fare dei passi in avanti e ce la sta mettendo tutto seconda cosa c'è molta ipocrisia dietro a tutta questa storia allora se per più di dieci anni tu ti senti dire che è tutto uno trucco è tutto una cosa da buttare via e poi improvvisamente fai addirittura delle celebrazioni in televisione sugli articoli giornali dicendo guardate come siamo diventati bravi che abbiamo ottenuto le Michelin Star delle due luna o menti di prima o menti adesso perché non è che uno si sveglia la mattina e improvvisamente cambia tutto ok io sono abituato con tanta gente non solo lituani ovviamente a vederli cambiare idea dalla sera alla mattina ma questo mi ha procurato tanta ilarità voi sapete che io lavoro anche nel mondo del food e so quello che comprano i ristoratori medi lituani comprano prodotti di bassa o scarsa qualità e cercano di rivenderli al più alto prezzo possibile per diventare ricchi ora i ristoranti che hanno ottenuto la Michelin Star sono ben quattro e ve li vado a dire scusate la pronuncia perché io non ne siano letuano soprattutto il primo è di Jogsmas è un ristorante in centro Vilnius poi c'è Demo c'è 1918 e Passmus ok questi sono i quattro ristoranti quindi Jogsmas Demo 1918 e Passmus sono i ristoranti che hanno ottenuto la Michelin Star cioè cada uno ha ottenuto una Michelin Star poi ci sono ovviamente tutti quelli che hanno ottenuto delle menzioni particolari ok e quindi ci sono tutta una serie di ristoranti sono una trentina che hanno hanno potuto e possono freggiarsi di una menzione nella Michelin Star del 2020 nella Michelin Guide del 2024 questo mi porta a delle conclusioni allora prima di tutto io non sono mai stato contro il discorso delle Michelin Star non so se sia un qualcosa di tutto truccato o comunque una cosa che mi farebbe dire no non vado a mangiare nelle Michelin Star io ho mangiato in ristoranti che hanno delle stelle Michelin e mi sono sempre trovato bene questo perché ammettiamo anche che sia tutto un trucco comunque gli ispettori vanno a fare l'ispezione nel ristorante e vanno a vedere che tipologia di piatti vengono presentati è chiaro che non vengono a dare una stella Michelin a colori quali ti offrono dei prodotti non decenti o comunque scarsi ci deve essere anche una certa ricerca ci deve essere anche il gusto dell'impiattamento ok quindi sono molto contento che il governo abbia invitato quelli della Michelin Guide in Lituano cosa mi fa sorridere è tutta l'ipocrisia intorno fino all'altro ieri non andava bene oggi celebrazioni a destra manca perché è tutto fantastico è tutto bellissimo avete visto persino noi abbiamo le Michelin l'altra cosa io potrei dire come ho sempre detto che sono stati premiati dei ristoranti e dei ristoratori che non fanno nulla di cucina prettamente lituana ok c'è un solo ristorante che fa più o meno dei piatti che hanno qualcosa a che fare con la tradizione vera lituana ma tutti gli altri sono ristoranti cosiddetti fusion ossia piatti che comunque si possono trovare in tutto il nord Europa ok più o meno riarrangiati e rielaborati secondo il gusto lituano tutto bene nessuno dice niente però forse mi sarei aspettato che le stelle Michelin fossero andate a qualche ristorante che avesse dato una spinta al prodotto lituano il prodotto lituano e la cultura e il cibo lituano è molto buono ovviamente devi saperlo cucinare e devi saperlo cucinare e soprattutto ad un certo livello diventa difficile reinventarsi poi nella modernità perché anche qui la tradizione lituana viene dal medioevo ed è una traduzione molto radicata all'interno della cultura lituana io mi sarei aspettato per esempio che uno di questi ristoranti facesse una versione contemporanea della la famosa zuppa di rape rosse fredda estiva e invece niente di tutto questo o addirittura un cooglis distrutturato o un vederei niente di tutto questo quindi sono un po' deluso dal fatto che i premi siano stati assegnati a dei ristoranti troppo quasi internazionali però al tempo stesso sono contento che finalmente la ristorazione possa trarre beneficio ecco c'è un ultimo problema ho cominciato a sentire che i prezzi comunque torneranno ad aumentare e già qui non ci siamo proprio più perché già erano troppo alti prima avrebbero dovuto dire ragazzi ok va bene le stelle Michelin ma non montiamoci la testa seconda cosa adesso pare che tutti si intitolino il fatto di avere le stelle Michelin in Lituania quindi anche chi fa uno schifosissimo hamburger dice avete visto da domani mattina anche il mio hamburger vale di più perché in Lituania finalmente abbiamo le stelle Michelin ragazzi non funziona così se tu fai un hamburger continui a fare un hamburger e se per quello hamburger prendi il pane più scarso la carne più scarsa e ci metti un sacco di salse preprocessate fai comunque un hamburger da straight food lo puoi chiamare gourmet ma teoricamente dovresti farlo pagare 5 euro non 15 o 20 euro un hamburger e non ti dovresti lodare del fatto che in Lituani ci siano delle stelle Michelin come ristoranti per usare questo come scusa per alzare i prezzi ulteriormente ecco queste sono le mie considerazioni dal punto di vista dello strano caso delle stelle Michelin in Lituani io vorrei sapere se qualcuno di voi magari scrivetelo qui nei commenti è stato in Lituania e vorrei veramente sapere la vostra esperienza nei ristoranti in Lituani vorrei sapere come vi siete trovati scrivetelo nei commenti come è stato il servizio come è stato il mangiare a livello lituano e poi soprattutto se ci tornereste a mangiare in Lituania allora non vi chiedo di fare una comparazione con l'Italia però ditemi qual è il vostro giudizio fatemi sapere se voi in tutta onestà promuovereste i ristoranti lituani in generale non dico questi delle stelle Michelin perché chiaramente se hanno ottenuto una stella Michelin un motivo c'è ok e sicuramente gli ispettori hanno fatto il loro dovere quindi scrivetelo nei commenti e fatemi sapere nel frattempo andiamo avanti a vedere che cosa succederà per il futuro in Lituania questo investimento da un milione e mezzo di euro che il governo ha fatto come dicono gli inglesi it will pay off cioè porterà più turisti darà un boost alla ristorazione non lo so chi vivrà vedrà per ora è tutto grazie ancora di aver seguito il mio canale fate i sharing di questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale vi ricordo che questo canale è super indipendente non prende soldi da nessuno io non sono al servizio di nessuno se non me stesso e di voi che siete gli utenti quindi iscrivetevi e fate iscrivere più gente possibile perché vorrei fare uno special quando arriviamo a mille iscritti e ho in mente di fare una cosa molto particolare mi raccomando campanella accesa sempre e alla prossima da un nuovo video dalla Lituania ciao